Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nostro nuovissimo video. Dal momento che la fascia media di Honor e Huawei è popolata da diversi smartphone molto simili tra loro per caratteristiche, abbiamo deciso di portarvi un confronto per aiutarvi a scegliere qual è il device con il miglior rapporto qualità-prezzo che possa soddisfare le vostre esigenze. Più nello specifico facciamo riferimento a quattro dispositivi della fascia media, ovvero Huawei P20 Lite, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite e infine Honor 7X. Manca solo Huawei P Smart, ma possiamo benissimo fare un confronto anche solamente tra questi. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme all'interno del nostro confronto. Allora ragazzi, non ripeterò tutte le specifiche tecniche di ogni smartphone, sia perché è presente la recensione completa per quello, sia perché qui sotto in descrizione c'è l'articolo dedicato al confronto e lì trovate tutte le schede tecniche. Parliamo quindi degli smartphone e cominciamo subito dal design. Il design di questi quattro smartphone è forse la cosa che più li differenzia in assoluto. Nonostante Honor 7X e Huawei Mate 10 Lite siano molto simili, cambia giusto qualcosa come per esempio la posizione delle fotocamere, però per il resto sia per quanto riguarda le dimensioni, che le bande in plastica per le antenne, che il sensore di impronte digitali è alla stessa altezza, come è alla stessa altezza anche quello per Honor 9 Lite e Huawei P20 Lite. Per quanto riguarda questi due smartphone li separiamo perché loro hanno una back cover in vetro, mentre loro hanno una back cover in alluminio satinato che purtroppo trattiene abbastanza le ditate, come anche loro, però a differenza loro, questi nonostante provi a pulirli sugli jeans, per esempio adesso vi faccio vedere, comunque rimangono sempre un po' sporchi e quindi trattiene un po' troppo le ditate, mentre loro essendo comunque in vetro se si sporcano li passiamo sulle jeans o sulla felpa e come potrete notare comunque va via. Le dimensioni di questi due sono sicuramente più favorevoli rispetto a quest'altri due e quindi sono molto più maneggevoli, più pratici anche nell'utilizzo ad una mano si riesce ad utilizzarli senza alcun tipo di problema, mentre per quanto riguarda Honor 7X e Huawei Mi 10 Lite diciamo che abbiamo un po' più di difficoltà nel raggiungere per esempio la tendina superiore e così via. Quindi per quanto riguarda la maneggevolezza preferisco senz'altro questi due e in assoluto a livello di design devo dire che mi piace di più il Huawei P20 Lite. Ok è molto simile all'iPhone X se non quasi identico, però ragazzi ha una costruzione sicuramente più pregiata rispetto agli altri smartphone e comunque alla fine ragazzi è un bel telefono. Quindi in questo comparto qual è il vincitore? Secondo me è il Huawei P20 Lite in quanto ben costruito, compatto e con un bellissimo display. Per quanto riguarda appunto proprio questo aspetto, Quello che mi ha convinto di più è stato ancora il P20 Lite grazie ad una miglior fedeltà cromatica e ad un buon contrasto. Al secondo posto si inserisce l'Honor 9 Lite mentre occupano l'ultimo posto a pari merito l'Honor 7X e il Huawei Mi 10 Lite a causa di alcuni colori un po' troppo spenti e non vividi come dovrebbero. Per quanto riguarda la luminosità massima ci troviamo sullo stesso livello seppur l'Honor 9 Lite risulti leggermente in vantaggio rispetto ai suoi compagni. Buono e reattivo il touchscreen su tutte le unità. E come avrete notato probabilmente dalle schede tecniche che vi ho invitato a leggere precedentemente sono tutti accomunati dallo stesso chipset ovvero il Kirin 659 il quale è comprensivo di un processore octa-core con frequenza di clock massima di 2.36 GHz e una GPU Mali T830 MP2. Qui abbiamo una differenziazione nei tagli di memoria perché mentre il Huawei P20 Lite, il Mi 10 Lite e l'Honor 7X hanno 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna l'Honor 9 Lite ha dei tagli di memoria da 3.32 e questo ragazzi si nota. Perché nonostante questa scheda tecnica che è pressoché identica le prestazioni sono differenti per questo in seguito vi lascio lo speed test che abbiamo realizzato qualche giorno fa. Ve lo lascio proprio qui sopra così che potete valutare un po' qual è secondo voi lo smartphone più reattivo e più prestante tra tutti questi. Ma passiamo ora al comparto fotografico ragazzi perché come potrete notare tutti posseggono una doppia fotocamera. Solamente l'Honor 9 Lite e il Huawei Mi 10 Lite posseggono una doppia fotocamera frontale. A prima vista i risultati ottenuti con i singoli smartphone non sembrano essere molto differenti ma in realtà il P20 Lite si trova ancora almeno un paio di gradini sopra gli altri. Gli scatti realizzati con quest'ultimo sono caratterizzati da una fedeltà cromatica migliore ed una definizione maggiore. È possibile notare questi dettagli croppando semplicemente le foto e mettendoli a confronto tra di loro. Sulla gestione delle luci riesce sempre ad essere lui il vincitore seppur di pochissimo in quanto i quattro smartphone restituiscono dei risultati molto simili tra di loro. Quello che fa peggio è sicuramente l'Honor 9 Lite che pecca maggiormente in termini di definizioni e di colori. Di sera la qualità cala, il rumore digitale aumenta per tutti e la gestione delle luci diventa più difficoltosa soprattutto per il più economico in questione. Ovviamente a spuntarla è sempre il nuovo entrato in casa Huawei. Per quanto riguarda la fotocamera frontale il vincitore è di nuovo il P20 Lite grazie ad una migliore gestione delle luci ed una qualità superiore rispetto agli altri. Nonostante la sua fascia di prezzo l'Honor 9 Lite si difende bene ma arriva ancora ultimo a causa di colori un po' smorti ed una definizione non ai massimi livelli. Il Mate 10 Lite ci restituisce un bokeh migliore grazie alla doppia fotocamera ma l'Honor 7TX effettua delle foto più nitide seppur con dei colori più tendenti al giallino. Ma visto ragazzi che abbiamo parlato del comparto fotografico non possiamo non parlare anche dell'audio e partiamo subito dal presupposto che nessuno tra questi è un campione nel comparto audio. Le differenze sono veramente minime e bene o male si equivalgono tutti. Leggermente in vantaggio ancora il Huawei P20 Lite sotto il profilo della qualità dell'audio ma per quanto riguarda la potenza Mate 10 Lite e Honor 7TX sono superiori. Infine l'Honor 9 Lite restituisce un suono un po' troppo piatto rispetto ai competitors e questo gli fa guadagnare l'ultimo posto in classifica. Grazie a tutti. Sotto il fronte della connettività i dispositivi si equivalgono in termini di ricezione telefonica e navigazione satellitare. Tuttavia le Huawei P20 Lite è l'unico ad avere il Wi-Fi dual band in quanto tutti gli altri hanno Wi-Fi monobanda. Purtroppo questa è una mancanza significativa che potrebbe far desistere molti di voi dall'acquisto di questi terminali. Per il resto sia l'Honor 9 Lite che il P20 Lite hanno un plus non da poco ovvero il chip NFC. Sul software non c'è molto da dire in quanto l'Emotion UI la conosciamo benissimo ragazzi. Gli unici appunti che possiamo fare riguardano le versioni software a bordo dei device ovvero il Huawei P20 Lite e l'Honor 9 Lite hanno Android 8.0 Oreo con l'Emotion UI 8.0. Mentre Huawei Mate 10 Lite e Honor 7X hanno ancora Android Nougat 7.0 e l'Emotion UI ferma alla 5.1. Quindi la differenza è proprio per quanto riguarda le major release. Come abbiamo visto dallo speed test però questi due sembrano essere più reattivi rispetto a questi altri due. Ok l'Honor 9 Lite è dei limiti hardware tra virgolette però il Huawei P20 Lite è arrivato terzo all'interno del nostro speed test. Quindi probabilmente insomma la versione con Oreo dovrebbe essere magari ottimizzata un pochino meglio. Mentre per quanto riguarda l'autonomia cari ragazzi abbiamo una 3000 mAh per questi due. Mentre una 3340 mAh per questi altri due che riesce a garantire loro un'autonomia di circa 5.30 o 5.45 di display attivo. Quindi teoricamente loro vincono sotto questo profilo però il Huawei P20 Lite nonostante i suoi 3000 mAh riesce a raggiungere anche le 5.00, 5.15 di display attivo. Quindi comunque lui si comporta molto bene. Però diciamo che sicuramente loro hanno una batteria più capiente che magari riesce a portarci a fine serata con più tranquillità. Honor 9 Lite invece si comporta nella media grazie a 4 ore di display attivo. Ma arriviamo ragazzi dunque alle conclusioni perché tutto sommato questa è stata una battaglia abbastanza combattuta. Perché seppur il P20 Lite sia sembrato superiore su diversi aspetti il Mate 10 Lite e l'Honor 7X sono in grado di garantirci delle prestazioni leggermente migliori. Anche quello del comparto fotografico è stato un bel confronto ma va detto che c'è una bella differenza tra il prezzo di questi tre device e il prezzo del nuovo entrato in casa Huawei. Infatti attualmente su Amazon troviamo l'Honor 9 Lite a 198€, l'Honor 7X a 241€ e il Mate 10 Lite a 265€ contro i 369€ di listino del P20 Lite. Che alla fine in questo confronto è sicuramente quello che ho preferito ma ragazzi ancora non ci sono delle differenze così pesanti da convincermi a comprare ad occhi chiusi questa new entry. Non appena il prezzo calerà ulteriormente fino a raggiungere anche la soglia di 300€ magari allora potrebbe essere sicuramente un buon acquisto. Però ragazzi io sono veramente curioso di sapere la vostra infatti vi aspetto nei commenti e voglio sapere quale smartphone comprereste. Quindi se il P20 Lite, Honor 9 Lite, Huawei Mi 10 Lite oppure Honor 7X. Quindi ragazzi vi aspetto qui giù nel box dei commenti. Mi raccomando mettete mi piace se questo confronto vi è piaciuto e vi ricordo che in descrizione è presente l'articolo testuale dove sono scritte tutte le specifiche tecniche, trovate più sample foto e molti altri dettagli. Quindi ragazzi un saluto a tutti da Leonardo per GeatsChina.it Grazie a tutti!